Grazie a tutti. Sono i social, Facebook, Twitter, Pinterest, eccetera. Sono i modi nuovi. Però, come dicevi giustamente, rimane il fascino della carta stampata e comunque il manifesto stampato per la comunicazione della mostra lo devi fare. L'invito cartaceo ancora qualcuno se lo aspetta. Non è solo un problema del Sud America del far arrivare gli abbonamenti, ma anche nello stesso territorio italiano a volte ci sono delle problematiche. Quindi dobbiamo mantenere l'uno e l'altro perché ovviamente anche i musei si devono adattare a queste nuove possibilità che sono poi capacità straordinarie di raggiungere un pubblico mondiale, ampissimo. Sì, sì, assolutamente. Sono le attese degli eventi. Di recente abbiamo inaugurato una mostra, dopo vi farò vedere alcune immagini, e a partire da tre mesi prima della mostra, su Facebook, ogni settimana, mettevamo un'immagine, un profilo di un autore, in modo che la gente si abituasse a vedere, a conoscere in anteprima quello che ci sarebbe stato nella mostra. Sì, stuzzicare la curiosità, ma anche uno dei problemi grossi dei musei e degli operatori museali, io mi metto in prima linea da questo punto di vista, è quello di comunicare il museo e gli eventi. Noi non possiamo pretendere di organizzare degli eventi di arte contemporanea e pretendere che tutti capiscano qual è il nostro obiettivo. Siamo noi che dobbiamo comunicare bene il nostro obiettivo. E' qui che sta il punto fondamentale non solo della comunicazione attraverso i social, ma anche e soprattutto della didattica. Quindi anche attraverso una buona e giusta e corretta comunicazione fai didattica e avvicini il tuo pubblico al museo. Questo è fondamentale. Altrimenti perché funzionano musei come il MoMA, che a volte hanno degli eventi di arte contemporanea così complessi anche per gli stessi critici d'arte, perché funzionano? Perché comunicano bene, perché hanno una didattica e un'immediatezza di confronto con il pubblico e di coinvolgimento del pubblico che è fondamentale. Quindi questo della comunicazione secondo me è un discorso a 360 gradi che coinvolge certi social, ma coinvolge anche e soprattutto gli operatori e chi lavora da dentro e deve essere posto un obiettivo, soprattutto da chi dirige una struttura museale. Che cosa voglio fare di questo museo? Voglio che rimanga come all'inizio del Novecento o a fine dell'Ottocento un luogo di studio solo per ricerche, chiuso a degli studiosi selezionatissimi. Allora abbiamo il gabinetto della Wunderkammer dei medici che era solo un luogo riservato a pochi. O vogliamo che questo museo sia aperto a tutti, sia un luogo di frequentazione? Ecco, questo è il dilemma che oggi si pone più che mai perché c'è, come sappiamo, un calo di visitatori nei musei molto importante. E secondo me nel discorso della comunicazione e della promozione la didattica soprattutto rivolta alle scuole, e qui non è un discorso, le scuole e le famiglie è fondamentale. Nel coinvolgimento del giovane che sarà comunque la futura generazione che fruirà e che farà cultura. Questo è importante, cioè noi stiamo con le nostre azioni creando la prossima e futura generazione, quindi siamo noi che gli dobbiamo dare gli elementi culturali importanti per quello che sarà la loro gestione, della loro cultura, del loro approccio anche solo, semplicemente al mondo dell'artigianato, della ceramica e di tutto quello che è la nostra grande e straordinaria tradizione. Quindi sono tutti elementi che vanno di pari passo, secondo me. Assolutamente sì. Non voglio... No, 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 no. Visto che doveva essere una chiacchierata... Certo, è vitale. Convieni. Bene. Direi che forse poi... Sì, abbiamo fatto iniziare Silvia prima perché la luce di questi luoghi è molto importante. Quando oggi pomeriggio abbiamo fatto questa passeggiata bellissima nella città, mi è venuto in mente, qualche anno fa, ho curato una mostra sui pre-Raffaeliti a Ravenna nel 2010 e c'era una testimonianza di questo artista inglese che diceva il sud d'Italia mi ha abbagliato e la sua luce, i suoi colori li porterò sempre nella mente e nel cuore. Ed effettivamente voi avete una luce molto forte, molto importante, molto potente e alle otto e mezza ancora c'è questa luce e non riusciamo a vedere molto bene le nostre immagini. Quindi abbiamo fatto iniziare Silvia che non aveva delle diapositive. Bene, io ho iniziato un po' la mia chiacchierata. Ti lascio il posto? Sì, grazie. Ecco. Credo... Adesso cercherò di andare indietro. Allora, la mia è una testimonianza di una realtà importante che molti di voi conoscono che è il Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza. Abbiamo tanto riso sul fatto della preposizione in Faenza mentre Giorgio aveva messo di Faenza perché il museo nasce come internazionale e questa è la sua eccezionalità poiché di musei di ceramica ce ne sono tanti locali e territoriali ma di museo internazionale ce n'è uno unico al mondo ed è quello di Faenza che nasce in una maniera molto particolare, molto strana, inconsueta, diciamo, rispetto alle altre realtà museali italiane. Nasce da un'esposizione internazionale, quella del 1908, dedicata ad Evangelista Torricelli e quindi tutto il quartiere dove adesso sorge il museo vi erano padiglioni dedicati all'industria, all'agricoltura, alle arti, all'artigianato e l'allora segretario comunale che era un avvocato che non aveva alcuna, tra virgolette, preparazione di storia dell'arte di storia dell'arte ceramica ma aveva una grande passione quindi spesso e volentieri è la passione che muove gli eventi, muove gli uomini e fa sì che si realizzino delle cose quindi a volte Giorgio devi imparare ad essere più convinto nelle tue cose ed è la passione che muove tutto e muove la realtà e il mondo scusami questa parentesi dicevo nel 1908 questo personaggio si inventa di chiedere agli espositori delle sezioni di arti artigianato e arti visive di donare le opere che erano esposte per quello che doveva essere il futuro museo della ceramica ma nessuno ne aveva ancora parlato, era solo una sua idea e da lì nasce il primo nucleo quindi questo museo nasce in base a tutta una serie di donazioni che arriveranno negli anni e ancora oggi fortunatamente arrivano e sono la parte più importante e dimostra anche un grandissimo senso civico dei nostri concittadini e del nostro territorio quindi nel 1908 si parte con questo progetto in una sede prestigiosa che era un ex convento che è localizzato vicino alla stazione e poi aggiungo questo perché sarà importante per gli eventi del 44 un museo che è unico al mondo e questo folle di Gaetano Ballardini inizia a raccogliere, raccogliere, raccogliere e chiedere chiedere con un'impostazione museografica modernissima contemporaneissima che ancora oggi noi ammiriamo perché questo avvocato era veramente straordinario aveva già predisposto tutto l'impostazione del museo dalle collezioni archeologiche alla contemporaneità non solo rappresentanti dell'Italia ma rappresentanti di tutto il mondo quindi c'erano le sale delle nazioni c'erano le sale dedicate all'arte precolombiana all'arte moderna e via dicendo quindi aveva pensato tutto e adesso questo museo è importante, è grande sono oltre 16.000 metri quadri espositive con 55.000 pezzi di cui 15.000 solo 15.000 esposti quindi è un museo con una grande storia che rappresenta un'eccellenza la nostra eccellenza italiana ma un'eccellenza che parla di un'eccellenza che è la ceramica un linguaggio che appartiene a tutti gli stati a tutte le generazioni a tutto il mondo quindi questa è la grandissima e straordinario motivo di questo linguaggio che appartiene a tutte le culture le collezioni sono varie qui vedete la vetrina dedicata a Picasso abbiamo parlato della vicinanza del museo alla stazione perché nel 44 il museo viene completamente distrutto da un bombardamento alleato fortunatamente era alleato e quindi distrugge non solo le collezioni ma anche e soprattutto la biblioteca la fototeca quindi grandi e grossi ingenti danni ma quel direttore che per una settimana non parlò più con nessuno si chiuse in una sorta di lutto dice tutto quello che avevo costruito in questi anni è andato distrutto in pochi minuti però non si perde d'animo inizia a scrivere a scrivere lettere ai direttori dei musei ai collezionisti agli artisti per chiedere i pezzi quindi sono lettere capolavoro strappalacrime una cosa di una poesia che rappresenta la drammaticità di quel momento pensate che a Faenza dopo il bombardamento si decide di lavorare su due fronti uno ricostruire la torre civica che era andata distrutta e l'altro ricostruire il museo che era il simbolo comunque di una cultura e di un territorio importante nei secoli e quindi si inizia si va avanti con la ricostruzione che verrà completata nel 52 Gaetano Ballardini morirà nel 53 ma finalmente vede il museo rinato e risorto ma non erano solo le collezioni che lui doveva costruire il museo come vi ho detto ha una progettualità molto moderna quindi c'era una biblioteca che adesso ha oltre 65.000 volumi dedicati alla storia dell'arte ceramica appartenenti a diversi paesi quindi non sono solo italiani ovviamente ma abbiamo una bellissima collezione inglese francese teniamo conto che il mondo anglosassone ha prodotto gli studi più importanti sulla storia dell'arte ceramica ma tra le sue tante idee c'era quella di pubblicare una rivista la prima rivista specializzata in studi di storia dell'arte ceramica e quindi nasce la Faenza che questo mese il mese di luglio compirà il centesimo numero e l'anno scorso abbiamo appunto festeggiato i cento anni perché nasce nel 1913 c'è una piccolissima interruzione durante appunto il 1945 e adesso è semestrale quindi abbiamo due numeri all'anno e ancora continua a ricevere tanti contributi da parte non solo di studiosi italiani ma soprattutto stranieri parlavamo prima della didattica il museo nel 79 nel 78 in realtà incontra Bruno Munari Bruno Munari sapete questo straordinario artista designer un intellettuale sui generis che ha creato progetti importanti di didattica anche alla Pinacoteca di Brera ma il suo obiettivo era quello di creare un laboratorio didattico ceramico unico in Italia il primo dove i bambini questo è il suo motto giocando imparavano e quindi ancora oggi noi abbiamo tutta una progettualità legata a questo laboratorio con un percorso abbastanza ricco le scuole arrivano seguendo cinque appuntamenti ma quei bambini ricordano la visita al museo perché per loro è un gioco e giocando imparano appunto a utilizzare la ceramica e a dipingerla a modellarla e quindi anche solo il piccolo vaso fatto con il colombino è per loro un grande risultato che rimarrà nella loro memoria addirittura per attività didattica abbiamo iniziato tutta una serie di eventi nei weekend che coinvolgono le famiglie e come dicevo lentamente stiamo avendo un grande riscontro perché il bambino che viene durante la settimana a fare il laboratorio il sabato e la domenica vuol venire col genitore vuole insegnare al genitore a fare ceramica e questa è una conquista straordinaria perché significa che abbiamo trasmesso qualcosa abbiamo insegnato qualcosa di importante che si è fissato nella loro mente e poi questa condivisione in un discorso quasi familiare è importante perché oggi più che mai nel weekend il weekend è l'unico momento in cui i bambini riescono a stare con i genitori e qual è il modo migliore di stare con loro se non divertendosi e giocando e imparando qualcosa e quindi il museo ha anche questo risvolto importante di socialità per noi veramente importantissimo e non solo dal punto di vista della ceramica ma aperto anche a tante attività varie grafico-pittoriche tessili perché abbiamo anche dei bravissimi operatori che con il knitting quindi il fare il tessere riescono a coinvolgere grandi gruppi oppure laboratori di lettura quindi ci sono tante modalità di fare didattica tante modalità di coinvolgere e rendere partecipi i bambini e io sottolino il fatto che quei bambini sono la nostra futura generazione non dimentichiamolo siamo noi che insegniamo quello che che sarà il loro progetto per il futuro poi nella progettualità del museo dalla fine degli anni 80 inizi 90 si è aperta la sezione di restauro sezione di restauro che potete immaginare per un museo della ceramica con anche ancora oggi oltre 300 casse di frammenti dei pezzi andati distrutti durante la guerra che cosa può significare quindi noi abbiamo dei professionisti che lavorano non solo ovviamente per i nostri pezzi ma anche per altri musei e realtà private quindi è importantissimo e poi la sezione di restauro fa tutta la catalogazione fondamentale dei pezzi che poi vanno online e servono anche per tutta una serie di ricerche particolari ecco qui vi faccio vedere questo era un pezzo di una porcellana risciarginori alta quasi un metro distrutta durante la guerra che fu recuperata nel 2009 dal nostro laboratorio ed era un pezzo distrutto in 109 frammenti qua ci sono altri elementi insomma questo è un piatto semplice da restaurare per le nostre collaboratrici ecco si parlava di comunicazione la comunicazione è la vita del museo spesso e volentieri tante persone vengono a contatto della nostra realtà grazie appunto al web facebook youtube i nostri video che vengono caricati pinterest twitter come si diceva prima sono le nuove frontiere privilegiate della comunicazione ed è importantissimo importante perché intanto come vi dicevo fa vivere ogni giorno il museo e fa puntualizzare l'attenzione del visitatore sulla realtà museo quindi anche dare una piccola notizia di una recensione di una comunicazione ad esempio mi ha messo su facebook questo evento di grottaglie la vostra inaugurazione facciamo un po' da sponda su tutti gli eventi che accadono nel mondo della ceramica e non solo quelli che riteniamo essere eventi culturali importanti anche incontri convegni vengono rilanciati sia attraverso il sito che attraverso facebook quindi è veramente un mezzo straordinario poi all'interno per far vivere il museo bisogna assolutamente avere relazioni internazionali si parlava prima stamattina con la direttrice di un progetto che qualche anno fa era stato fatto un progetto europeo che aveva coinvolto appunto Faenza, Grottagli e tanti altri musei ecco la veicolazione la comunicazione la progettualità con tanti musei io qui ne ho selezionati alcuni con cui lavoriamo costantemente è importante certo è una fatica è una grande fatica i musei non hanno tantissimi collaboratori i collaboratori che ci sono devono fare il lavoro di cinque persone se va bene però dicevamo è la passione che muove tante iniziative tante idee tante realtà tante progettualità e quindi per far vivere un museo bisogna assolutamente avere una progettualità condivisa con musei internazionali ecco il nostro museo fa parte di questi 109 musei che hanno di qualità che la regione Emilia Romagna ha definito nell'ambito appunto dei tanti musei che la regione Emilia Romagna ha perché ha un patrimonio straordinario di tantissime collezioni anche collezioni private che poi sono state donate interamente alle varie province alle varie alla regione e sono diventate patrimonio pubblico quindi c'è una in Emilia Romagna una grandissima sensibilità nel discorso della donazione della pubblica fruizione il nostro museo senza le donazioni non sarebbe cresciuto in maniera così esponenziale come ancora oggi vive di donazioni la settimana scorsa siamo andati a ritirare oltre 300 pezzi dall'arcaico agli inizi del novecento appartenenti a una collezione privata di una persona deceduta che aveva per volontà lasciato tutto alla città di Faenza e al museo quindi una sua collezione che lui aveva vissuto e creato in maniera particolarissima che però ha voluto lasciare e non disperdere questo è importantissimo perché dimostra un ripeto un grande senso civico e un grande amore nei confronti del proprio territorio della propria storia della propria cultura poi nel 2011 il il è stato riconosciuto appunto monumento unesco quale testimone della ceramica nel mondo e ogni anno per celebrare questo riconoscimento creiamo una festa una festa per la città un open day di solito è la prima domenica di ottobre dove ospitiamo tutta una serie di eventi anche di promozione far vedere che cosa fa il museo cosa farà il museo quindi i laboratori didattici concerti perché realizziamo eventi con la locale scuola di musica oppure presentiamo delle pubblicazioni importanti dei riallestimenti quest'anno addirittura presenteremo l'allestimento di una sezione permanente dedicata alla scultura ceramica del ventesimo secolo internazionale cosa che era solo in parte esposta e che adesso avrà una sua dimensione importante ecco le mostre fino a qualche anno fa io sono direttore al museo solo da quattro anni fino a qualche anno fa vi erano risorse diverse la crisi non era ancora forse esplosa e quindi si facevano diverse iniziative diversi eventi dall'anno scorso abbiamo deciso di fare un solo grande evento all'anno un evento espositivo una esposizione che sia di grande rilievo noi ogni due anni abbiamo la biennale il nostro premio faenza che è un concorso nato nel 1938 che ancora oggi ha un suo richiamo importante l'anno scorso avevamo avuto oltre 1300 partecipazioni da cui abbiamo selezionato 90 artisti under e over 40 abbiamo creato attorno a questo premio tutta una serie di iniziative di coinvolgimento anche di altre realtà espositive come officine saffi che ospita i vincitori del premio faenza per una residenza d'artista ed una mostra nel centro di Milano quindi questo è un valore aggiunto importante anche di comunicazione di questo concorso in Italia e in sedi prestigiose ecco dicevo quando non c'è il premio faenza facciamo una mostra importante l'anno scorso era Arturo Martini che è proseguita fino a marzo e quest'anno abbiamo la mostra la ceramica che cambia di cui vi ho lasciato il dappian sulla sulla sedia ecco un evento importante è facile fare degli eventi che coinvolgano magari meno risorse però se io sono un direttore di un museo devo considerare attentamente le mie azioni e le mie risorse intanto perché non sono risorse mie ma sono risorse pubbliche quindi questo è importantissimo metterlo in chiaro subito ed essere consapevoli di questo quindi le risorse che ho devono essere per una progettualità che faccia bene al mio museo al mio pubblico alla mia collezione alla mia realtà e a quello che rappresento io nel mondo io sono il museo internazionale delle ceramiche quindi devo avere eventi di grande respiro di grande rilievo che coinvolgano anche momenti particolari come questo ad esempio dedicato alla scultura ceramica in Italia dal secondo dopoguerra tutto il ventesimo secolo quindi devo coinvolgere anche degli studiosi che che mi supportino in questa mia progettualità ecco questo è un po' l'obiettivo del museo quello di cercare di guardare a quello che è la realtà territoriale importante perché faenza alla fine è diventata faenza certo in tutto il mondo ma se non avesse avuto un museo che ha portato avanti un certo discorso museologico e museografico una scuola perché fino a qualche anno fa c'era l'istituto d'arte il celebre Ballardini dove tutti venivano e frequentavano da tutto il mondo soprattutto il bienio specialistico poi oggi c'è l'Isia che è un'altra realtà importantissima dedicata al design è un istituto superiore di arti arti visive soprattutto appunto dicevo dedicato al design e da quest'anno abbiamo anche l'ITS ceramico un diploma di stato che è venuto a sopperire ad una mancanza con la riforma scolastica l'istituto d'arte è venuto meno è diventato il liceo artistico del design non faccio commenti al riguardo ma è tutto superfluo anche perché noi adesso abbiamo dei bravi ceramisti che hanno gli ultimi hanno 35 anni e ci mancano un paio di generazioni quindi adesso dobbiamo guardare stare molto attenti a quello che facciamo e cerchiamo di sopperire appunto con questo ITS che è un come dicevo un diploma di stato di due anni che cerca di dare una formazione ampia sul linguaggio ceramico cerca di formare sì dei tecnici ma anche eventualmente degli artigiani molto preparati per un discorso tecnico per un discorso artistico questi artigiani possono anche diventare degli artisti possono anche seguire la carriera artistica acquisti quindi l'obiettivo è o il tecnico ceramico che va a lavorare in una realtà industriale e nel nostro territorio nella nostra regione ce ne sono diverse interessanti oppure l'idea è quella di supportare con un know-how importante l'apertura di botteghe e il proseguimento di una conoscenza che va scemando e che è importantissima proprio per la nostra storia cioè lo vediamo anche qui a Grottaglie voi avete una storia importantissima quando Giorgio mi ha detto che ci sono 60 botteghe io ci sono rimasta nel senso che non mi aspettavo una realtà così florida nel senso con tutte le problematiche che ci sono e che conosciamo di difficoltà di mercato però a Faenza ci sono 30 botteghe che fanno molta fatica ecco e Faenza è comunque un nome prestigioso quindi voi ritenetevi fortunati quello che io dico è cercare attraverso le tante attività che si hanno attraverso il museo gli eventi questo bellissimo progetto della regione che comunque porta delle testimonianze importanti e porta la consapevolezza e il coinvolgimento questi sono rapporti raffronti fondamentali per una realtà di antica tradizione come la vostra quindi credo che questo progetto possa avere veramente possa dare dei frutti importantissimi qui intanto scorrono le immagini della mostra inaugurata venerdì ecco cosa significa quali sono gli obiettivi di un museo così grande spesso e volentieri noi diciamo certo il museo di Faenza è bello importante 16.000 metri quadri 55.000 opere però è supportato da una comunità da un territorio di 60.000 abitanti quindi è pochissimo quindi la municipalità non riesce per ovvi motivi e anche la crisi e la chiusura poi delle province che per noi erano soci fondatori è stata una questione molto importante ecco che cosa quali sono le priorità di un museo così importante così specifico ricordiamoci è un museo legato ad un linguaggio linguaggio particolarissimo ecco le priorità sono state quelle in questi quattro anni soprattutto di valorizzare il proprio patrimonio quindi fare eventi legati alle proprie collezioni la mostra che abbiamo inaugurato venerdì la metà dei pezzi appartengono ai nostri depositi erano 40 anni che non si vedevano che non erano stati esposti quindi li abbiamo tolti dai depositi e messi in un discorso di pubblica affluizione poi abbiamo cercato di utilizzare i nuovi media per la comunicazione e la promozione come vi ho detto prima abbiamo ridotto gli eventi e la la riduzione degli eventi non è un discorso appunto semplicemente quantitativo ma è un discorso qualitativo fare un evento espositivo e poi creare assieme a questo evento durante i mesi conferenze incontri coinvolgere realtà teatrali creare spettacoli anche musicali fa vivere la mostra fa vivere il museo questo è quello che stiamo cercando di fare poi abbiamo cercato di ampliare le relazioni istituzionali anche grazie ad Argillà anche grazie alla ICC che comunque ha sede proprio a Faenza e poi una cosa di cui stavo parlando prima con il vostro concittadino è proprio quella di creare la rete il museo non può vivere da solo non può vivere pensando di non avere relazioni con il proprio territorio Faenza poi penso come tante altre città e penso anche a Grottaglie ha una rete di eccellenze che sono anche enogastronomiche quindi l'idea che stiamo portando avanti in questi anni è quella di creare dei progetti culturali e per me cultura non significa solo museo opera d'arte artista la cultura è anche la scelta del calice divino che abbino alla mia tagliata oppure alle orecchiette quindi cultura in un ampio senso a 360 gradi che coinvolge il turismo che coinvolge l'enogastronomia che coinvolge le bellezze dell'arte quindi creare progetti programmi che coinvolgano un pubblico ampio che si è invogliato a venire nel territorio e accanto alla bottega riesca a fruire anche di un percorso differente ma che è necessario alla visita pensiamo a quello che fanno in Francia i grandi strateghi del del marketing culturale accanto alla rovina archeologica ti mettono sempre vicino un altro percorso quindi cerchiamo di copiare le best practice metterle in pratica togliendo tutti un po' di campanili che in Italia ce ne sono tanti e con un po' di umiltà cercare di creare un programma un progetto per il nostro territorio quindi ognuno certo è speciale per sé e per la propria realtà dove lavora però quando si parla di territorio bisogna mettere da parte un po' di ego e cercare di andare avanti in un discorso un po' di condivisione quindi la rete la sinergia sono fondamentali ed è quello che stiamo cercando proprio di fare e poi pian pianino stiamo cercando di riposizionare il nostro museo in un discorso museale nazionale ed internazionale come dicevo prima i rapporti con i grandi musei internazionali sono importanti ma il riposizionamento di una realtà museale così complessa e specifica ripeto dedicata ad un linguaggio come quello della ceramica passa anche dall'idea di utilizzare il museo come luogo di eventi che non sono necessariamente legati alla ceramica noi ad esempio ogni anno grazie appunto al coinvolgimento dell'assessorato alla cultura organizziamo la settimana del contemporaneo che cos'è è una settimana in cui mettiamo insieme tante realtà territoriali dall'ISIA al museo Carlo Zauli ovviamente il MIC la pinacoteca e altri centri culturali e creiamo organizziamo eventi di arte contemporanea non necessariamente dico legati alla ceramica ma legati alla danza legati alla musica legati alle arti visive noi ad esempio nel museo di solito ospitiamo dei giovani giovani artisti e giovani curatori che non si occupano di ceramica che portano nel museo pittura scultura incisione fotografia fanno eventi performativi e quindi questo è un arricchimento che noi riteniamo importante e la nostra settimana del contemporaneo di solito cerchiamo di collegarla ad un evento che AMACI organizza a livello nazionale che è la giornata del contemporaneo che è di solito il primo o il secondo sabato di ottobre e quindi questo fa sì che comunque la nostra progettualità venga comunicata anche a livello nazionale quindi ecco il posizionamento avviene anche tramite strategie di comunicazione cercare di avvicinarsi a quelle che sono altre vie di promozione degli eventi come appunto questa della giornata del contemporaneo che ormai è alla decima dodicesima edizione e che è viva in tutta Italia quindi questa è una strategia che noi utilizziamo e che al momento è risultata vincente anche perché AMACI è l'associazione dei musei d'arte contemporanea italiani che sta facendo un lavoro importantissimo proprio come dicevamo prima nella didattica dell'arte contemporanea della promozione dell'arte contemporanea in tanti siti ecco questo è un po' io dico il nostro museo è un museo un po' difficile ma è un museo che se guidato gestito da persone con grande passione come è la realtà dei miei colleghi io sono fortunata ad avere tutti i colleghi che amano il proprio lavoro e sono veramente appassionati di quello che fanno e non guardano l'orario di lavoro ma se c'è un progetto da portare avanti si va avanti finché non è finito e completato e questo è una cosa veramente molto rara ed eccezionale io devo ringraziare di avere dei collaboratori così importanti quindi dicevo gestire un museo così importante senza una passione è difficile e quindi in tutte le cose in tutte le realtà soprattutto culturali è la passione che vince e anche soprattutto il senso civico se ci sono delle domande sono qui a disposizione applausi si sente? bene lei ha accennato a problematiche legate alla sostenibilità del museo in periodo di crisi volevo sapere se ci sono state delle azioni direzionate nei rapporti con i privati nella gestione del museo cioè se secondo lei l'ingresso del privato all'interno di un'organizzazione museale può essere un valore aggiunto o è un diciamo un qualcosa da da temere da evitare a risolvere un po' la questione anche difficile della nostra realtà culturale e credo che appunto l'inserimento di figure che non siano solo dei semplici sponsor perché quello che stiamo cercando di fare noi è il coinvolgimento di queste realtà questi personaggi all'interno di progetti perché altrimenti lo sponsor a lungo andare ti abbandona perché non capisce cosa stai facendo io allo sponsor non posso chiedere di pagare l'acqua la luce il gas e neanche il mio stipendio perché non è il ruolo dello sponsor lo sponsor deve essere coinvolto in un progetto che deve sentire proprio e quindi il progetto lui deve sentire che è un progetto per un territorio per una che deve avere un obiettivo importante ad esempio noi cerchiamo di coinvolgere soprattutto nelle scuole perché riteniamo essere fondamentale il coinvolgimento e l'avvicinamento delle scuole delle classi e per quello che sottolineavo prima il discorso della didattica la didattica è fondamentale però spesso e volentieri ti trovi nelle difficoltà di non riuscire a pagare a sostenere i progetti didattici perché non hai le risorse quindi questo è un po' la problematica quindi il fatto di coinvolgere degli sponsor è sulle questioni fondamentali poi noi abbiamo delle fondazioni bancarie che ci sostengono per progetti importanti progetti espositivi dove c'è un riscontro importante di pubblico però fondamentalmente bisogna avere bene chiaro l'obiettivo per cui si chiama uno sponsor ecco e credo che la via per uscire da questa crisi sia proprio il coinvolgimento del privato volevo chiedere quanto il museo di Faenza è stato importante per le botteghe di Faenza nel corso degli anni sia sotto il profilo tecnologico e commerciale il museo di Faenza ha sempre portato avanti un discorso di eventi importanti una progettualità che volente o nolente l'artigiano l'artista di turno che passavano da Faenza assimilava diciamo il messaggio di un discorso stilistico di un gusto di una poetica e quindi negli anni tutta una serie di eventi sono serviti anche e soprattutto a cambiare la progettualità delle botteghe quindi è stato noi adesso a Faenza abbiamo una realtà dicevo di una trentina di botteghe che in parte fanno del tradizionale e in parte fanno un discorso moderno che è fondamentale perché altrimenti la realtà faentina non sopravviveva non sopravviveva a questa crisi e quindi credo che la frequentazione degli artigiani del museo degli eventi delle conferenze sia stato veramente una molla in più proprio per la loro formazione ma anche per la realizzazione di prodotti importanti che poi hanno avuto un certo riscontro di quello è fondamentale adesso il regio istituto era stato istituito nel 1918 proprio come dependanza del museo quindi la formazione è stata appannaggio anche del museo per tanti decenni poi dopo è passato ad un'altra istituzione eccetera adesso l'ITS che è quello questo diploma di stato su cui noi veramente puntiamo tantissimo è stato sostenuto anche dal museo oltre che dal comune dalla regione e dall'ISIA quindi noi crediamo molto in questo progetto e lo vediamo soprattutto per la nostra realtà territoriale quanto sia importante e fondamentale avere sia il discorso espositivo propositivo e come dire di visione di quello che accade anche nel mondo diciamo espositivo ma soprattutto quello l'aspetto formativo ecco argillà che vedremo domani essere sarà il tema di domani è un altro modo di formazione secondo me perché avere 150 espositori che arrivano da tutto il mondo che propongono qualcosa di diverso rispetto alla consueta maiolica o ad una poetica ad uno stile ad un gusto appartenente appunto a paesi differenti quest'anno avremo dei taiwanesi avremo degli argentini degli inglesi finlandesi quindi vedere questo pubblico questi operatori provenienti da tutto il mondo poi tutta una serie di eventi anche conferenze al museo di approfondimento di determinate tematiche è un modo per formare gli operatori del proprio territorio spero di essere stata esaustiva grazie grazie